Il Centro Santa Chiara è un ente pubblico economico della provincia autonoma di Trento e ha una funzione fondamentale sul territorio in quanto si occupa della gestione di spazi teatrali, spazi di spettacolo, della progettazione e programmazione di attività di spettacolo dal vivo e di tutto quello che può essere connesso con il mondo dello spettacolo dal vivo in termini sia di produzione, di progettazione, di programmazione, di distribuzione e, perché no, formazione. Il Centro Santa Chiara è partner di un progetto di recupero sul PNRR per Termenago, ci mettiamo a disposizione, ci è stato chiesto di occuparci in particolare di progetti di formazione legati all'ambito dello spettacolo dal vivo, ma poi da cosa nasce cosa, gli spazi sono meravigliosi, la possibilità di dare nuova prospettiva dei territori è una prospettiva interessante e ci impegneremo senz'altro a farlo al meglio.